Queste situazioni devono partire col presupposto di inserire il parcheggio a zona sosta regolamentata in aree prettamente commerciali e nel Libertà sappiamo perfettamente che questo non esiste. L'idea che parte dalla gente del Libertà è quella che se io ti pago i 30 euro all'anno devo avere il mio posto mio prenotato, cioè io devo sapere di arrivare a casa e di trovare la possibilità di parcheggiare. Questo non accade, non accade soprattutto nell'area esistente del quartiere Libertà, perché sappiamo tutti benissimo che la sera l'area è piena di pub, pizzerie e quant'altro, allora lo stesso residente non riesce comunque a trovare posto nello stesso quartiere. Altresì c'è da dire questo, che la zona sosta regolamentata non è controllata. Se ci facciamo una passeggiata in via Manzoni e precisamente negli ultimi isolati di via Manzoni, verso la scuola Marzoni-Bombino, verso Corsa Italia, gli operatori non ci sono, non esistono, è da un mese che gli operatori non passano di lì. Cosa accade? Che i commercianti che lasciano in sosta l'autovettura dalla mattina e poi la levano la sera, non pagano mai il grattino. E questo naturalmente anche per l'amministrazione comunale, voglio dire, non è un valore aggiunto, per cui voglio dire, diamo la possibilità di parcheggiare, di fare una sosta a rotazione, dove io sono d'accordo sulle strade prettamente commerciali, vedi via Manzoni, vedi via Crispi, ma le strade interne dove c'è gente che non arriva nemmeno al 10 del mese, andare a inserire, se ha pure una cifra di 30 euro all'anno, in una zona prettamente non commerciale, dove non ci sono nemmeno esercizi commerciali, o c'è la botteguccia del salumaio, ditemi voi, voglio dire, se io devo andare lì a pagare per avere una sorta di rotazione per trovare il mio posto, dove c'è gente che non paga manco l'assicurazione. Io non voglio fare l'ideologo del caso, però c'è anche da dire che questo è un male proprio barese, dove a Bari ci sono tre persone che hanno la patente in famiglia e bisogna avere tre macchine, perché negli altri stati o in altre città questo non succede, va anche chiarito questo, perché abbiamo questo problema, così come quando si esce e si va in centro, lo noto io ancora oggi, cinque amici si devono incontrare e vanno tutti e cinque con la propria macchina, questo è un altro caso assurdo, così come anche il servizio pubblico notturno non funziona benissimo. Sì, ma la zona sosta regolamentata funziona in diverse situazioni, è vero che io ho la seconda macchina, la terza macchina, ma vado a pagare di più rispetto al tagliandino della prima autovettura. Io ho detto come discorso generale, perché poi il problema nasce da lì, parliamoci chiaramente, il problema nasce da lì. Io volevo dire, se posso, perdonatemi un'altra cosa, la ZSR in realtà non nasce per venire incontro alle esigenze dei commercianti, la ZSR nasce per venire incontro alle esigenze dei residenti, quindi che ci sia o no una presenza di esercizi commerciali in quella zona, non è il discrimine per realizzare o meno la ZSR, perché quello è un provvedimento a favore dei residenti. In più, se il problema sono i 30 euro all'anno e vogliamo risolvere questa cosa del parcheggio, ragioniamo su un'ipotesi da presentare all'amministrazione comunale, un pagamento di quel tagliando in funzione del reddito ISEE magari, dove chi ha più risorse si può far carico anche del costo che risparmierebbe uno che ha meno risorse. Però questi sono tecnicismi che con De Caro, con l'assessore, che è il delegato del sindaco, che è disponibilissimo, si possono trovare queste soluzioni di questo tipo. Il tema però qual è? Noi riteniamo che sia giusto o meno, vogliamo lanciare una nuova sfida culturale come quella che l'amministrazione Emiliano ha lanciato ormai sette anni fa? Sette anni fa, quanti di voi, quanti di noi erano perplessi sul park and ride? Ma questa l'abbiamo sperimentata, il park and ride l'abbiamo sperimentato e abbiamo riscontrato la validità. Come avevi detto tu, un potenziamento del park and ride in zona può diventare anche dei servizi. Certo, quella è la condizione fondamentale per allargare la ZSR. Perché parliamoci chiaramente, lì ci sono problemi, e tu l'hai visto quando abbiamo fatto l'anno scorso il progetto, abbiamo proprio difficoltà anche con i mezzi pubblici a dover passare in alcune vie. Però lì è un circolo virtuoso causa-effetto, cioè se allarghi la ZSR, rendi più regolamentato e funzionale i parcheggi in quella zona, puoi pretendere dall'amministrazione comunale un collegamento diretto dal park and ride a quella zona centrale del quartiere Libertà e non come oggi direttamente a Piazza Massari. Secondo me ci sono margini per poter lavorare, se vi è la volontà politica. Come abbiamo visto, quindi, proprio partendo da questa circoscrizione, i temi sono tanti e come si può notare sono completamente differenti anche all'interno della zona stessa. Quindi la prossima settimana vedremo e affronteremo i problemi di una nuova circoscrizione. Ringrazio ancora il presidente Dino Tartarino per la sua presenza e Pietro Petruzzelli, consigliere comunale. Noi ci rivediamo a una prossima puntata di Ambientiamoci. Ciao a tutti. Buonasera.